Sinceramente non riesco a non pensare ai miei genitori col sorriso, a parte gli farei un dispetto in mane, quindi ci abbiamo scherzato tante volte su questa cosa. Sceglie il sorriso per ricordare il padre e la madre, morti tragicamente in quel terribile schianto aereo che ha lasciato un'intera comunità increduli, sansepolcro. Andrea è uno dei quattro figli di Carlo Spini e Gabriele Avigiani, vive qui e vuole ricordare così i suoi genitori. E stavolta non ci si scherza, però è finita insieme, l'hanno vissuta fino alla fine uniti, una coppia incredibile e quindi questo è quello che ci consola. Il giorno dopo il disastro aereo di Addis Abeba, la comunità si stringe attorno alla famiglia Spini, molto nota non solo negli ambienti cattolici. Lo ha fatto l'ASL sud-est, esprimendo le condoglianze per la scoparsa dei coniugi medico ed infermiera in pensione. Lo ha fatto anche il sindaco Mauro Cornioli, che a stento trattiene la commozione ai nostri microfoni. Per la comunità è una grandissima perdita, due persone stupende, una bellissima famiglia, vivevano anche nell'esperienza della comunità parrocchiale di San Paolo. Dunque persone che lasciano un grande segno in città, una testimonianza, grandi testimoni di pace, di cooperazione fra i popoli. Anche Andrea, che aveva scelto il sorriso per raccontare quelli che definiva persone normali, non certo eroi, ha gli occhi lucidi quando ci regala un ultimo personale ricordo, che fa di babbo e mamma quelli che lui stesso definisce dei giocherelloni. Stamattina la Chiara, il mio figlio, mi faceva vedere una foto del mio babbo, che io non l'avevo neanche mai vista, che se l'era fatta con lei con un cappello da rapper che faceva la posa da selfie a 74 anni. Questa richiesta era lui.